Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e benvenuti in questo nuovo vlog E come sempre abbiamo tantissime cose di cui parlarvi La prima, la più importante di tutte E cosa? E che abbiamo raggiunto i 6.000 iscritti Yuhuuu! Siamo felicissimi, questo traguardo ragazzi è incredibile Abbiamo battuto tutti i record del canale Ogni tipo di record è stato battuto E abbiamo fatto praticamente 4.000 iscritti in un mese Questa cosa è totalmente assurda Soprattutto considerando che ne abbiamo 6.000 totali Esatto, che ne abbiamo 6.000 totali E' stata una cosa incredibile Cioè 6.000 consolini, te li immagini, tantissimi E' una cosa bellissima, potremmo riempire, che cosa? Allora, un cinema, sì, anche un teatro Potremmo riempire un teatro, vero? No, più un teatro, perché il cinema non è così grande Esatto Un bel teatro enorme E' una cosa pazzesca Comunque ragazzi, è soprattutto un merito di Pokémon GO Che ci ha permesso di girare un pochettino su YouTube Italia E di farci conoscere un po' Ma soprattutto il merito principale è vostro Che ci avete supportato tutti i giorni Ci avete dato la forza, la carica Avete commentato, messo likes E ci avete appunto permesso di andare oltre Di farci conoscere E quindi grazie mille ragazzi Vi dobbiamo tantissimo E siamo super felici Assolutamente Senza i nostri consolini Non saremmo neanche a 6.000 iscritti Esatto Prossimo obiettivo Ovviamente I 10.000 iscritti Intanto Attesi 10.000 iscritti Perché Io lo vedo come un obiettivo enorme 10.000 iscritti È un obiettivo che abbiamo sempre sognato Ma che mai abbiamo neanche visto per sbaglio Quindi Ci viene strano Anche solo pensarlo Credo che anche se ci arriveremo Non riusciremo a realizzarlo per i primi due mesi Ma io guarda ancora Come non realizziamo adesso i 6.000 Non realizzo i 6.000 Perché sono arrivati talmente in fretta Che ancora mi sembra Mi sembra di essere ferma a 1.000 iscritti A 800 Più a meno Cioè è una cosa incredibile Esattamente Comunque adesso ci aspettiamo di calare un po' Con la crescita di iscritti Perché ovviamente ci siamo fatti conoscere Il pubblico di Pokémon GO Ci ha conosciuto Tutto chi si voleva iscrivere si è iscritto Ma adesso il nostro obiettivo Ok si è arrivato ai 10.000 Ma la cosa a cui stiamo pensando È di migliorare ancora i video Perché ci sono delle cose Che ancora vogliamo migliorare Vogliamo portare poi altre challenge Dato che la prima ragazzi Sta avendo un successo davvero fantastico E ne parliamo tra poco E vogliamo anche iniziare ad organizzare I raduni su Roblox E anche se quelli andranno bene Probabilmente arriveremo ad organizzare Anche una alla settimana Sì assolutamente E ad organizzare proprio delle serie Che sfrutteranno appunto voi consolini Il fatto che giocheremo tutti assieme Per rendere le serie ancora più belle E divertenti Insomma tantissime cose Speriamo di riuscire a fare tutto Noi siamo gasatissimi come sempre Infatti stiamo parlando Ancora più veloci del solito Da quanto stiamo contenti Esatto Penso che ci dovremmo calmare un attimino Troppo euforia Repiamo Io Io Non iniziare Comunque Visto che l'hai nominata Adesso andiamo a parlare subito Della challenge Esatto Di Pokémon La consolini challenge Che ha avuto un successo straordinario Cioè ragazzi In due giorni Abbiamo raggiunto una cosa Come più di 200 screenshot Che ci sono stati mandati Sì Io all'inizio Quando l'abbiamo fatta Adesso abbiamo pensato Adesso ci manderanno 5 screenshot scontrati E non si potrà più fare la challenge Invece sono stati tantissimi Pian piano stiamo rispondendo a tutti Quindi se ancora non avete ricevuto Una risposta Non vi preoccupate Pian piano vediamo tutti i messaggi E raccoglieremo tutti gli screenshot Ed è bellissimo È davvero bellissimo Vedere così tanti partecipanti È una cosa fantastica Abbiamo visto anche che Ormai tantissimi Sono surclassato Ragazzi Trovate troppi Pokémon rari Non sappiamo come fate Ma noi non ne troviamo così tanti Guarda Abbiamo rosicato tanto Ci avete fatto rosicare Per due giorni interi Ti dico la verità Ogni volta che vedo certi screenshot Mi viene da rosicare Ve lo dico proprio Ci sono i miei Pokémon preferiti Lì in mezzo Chiaramente Avete dei Pokémon fantastici C'è proprio una fortuna incredibile Nel trovare i Pokémon Guarda bravi Complimenti Ve lo dico proprio Complimenti In ogni caso Per chi se l'ha chiesto Ragazzi I vincitori verranno proprio Annunciati nel video Di domani di Pokémon GO Quindi domani alle 19 Quindi mercoledì alle 19 Uscirà un video di Pokémon GO E all'inizio di quel video Annuncieremo appunto i due vincitori Mostreremo i Pokémon Che hanno trovato E così via Quindi sarà tutto lì Così non dovete controllare Instagram, Facebook Tutte quelle cose No certo ci pensiamo noi Esatto Che potrebbe essere complicato Sarà complicatissimo raccogliere tutto Ma ce la farò Ce la farò Invece per la rarità dei Pokémon Ragazzi Abbiamo capito Che quella del Pokédex Era una scemenza Ogni tanto lo sapete Che ne spariamo di grosse Abbiamo rimediato subito Abbiamo subito cercato Su internet Un sito In cui abbiamo trovato Un'immagine In cui appunto Tutti i Pokémon Sono suddivisi In base alla loro rarità Esatto L'abbiamo lasciata Come link Nel video precedente Della sfida Esatto Lo mettiamo anche in questo Anche qui sotto Così chiunque la può consultare E sapete che appunto Per decidere il Pokémon più raro Consulteremo questa tabella E secondo me Ci saranno addirittura Dei pari punti Per il Pokémon più raro E in quel caso Dovremmo decidere Con quello che è più potente Perché credo che ci saranno Due o tre persone Che hanno lo stesso Pokémon più raro A parità facciamo Facciamo comparire tutti magari Certo Facciamo apparire tutti quelli Che arrivano alla pari Mi piace Mi sembra giusto La cosa più giusta Per quanto riguarda La prossima sfida di Pokémon Stavamo pensando Alla palestra challenge Fateci sapere nei commenti Se vi piace come idea Praticamente in che cosa consiste Consiste nel riuscire A conquistare più palestre possibili In contemporanea Prima di perderle Diciamo Quindi usando come screenshot Quando si va nel negozio C'è il bottoncino Con il numeretto Si farà lo screenshot di quello E la persona che riuscirà Ad averne più palestre In contemporanea Vincerà Ovviamente noi saremo i primi A provarci Faremo due Sarà difficile anche per noi Sarà difficile anche per noi Perché non so se ci sono zone In cui ci sono palestre vicine Quindi al massimo Dobbiamo cercare una bella zona No al massimo Tipo ne vedi una Poi devi correre Esatto Quindi sarà un po' complicato Parlando appunto di sfide Ci teniamo anche a precisare Che i video di Pokémon Vogliamo farli in questo modo Nel senso Cercare di fare il più possibile Sfide assieme a voi Perché altrimenti Abbiamo paura che risulti monotono Magari noi sempre in giro Che catturiamo Pokémon E cose del genere Anche perché Cioè si trovano quasi sempre Gli stessi Pokémon Sì Anche quando proviamo Ad andare in zone Un po' più particolari Alla fine si trova Un po' sempre le stesse cose Quindi abbiamo deciso Diciamo di evolvere la serie In questo modo Anche perché Le cose da fare Non sono troppe nel gioco Diciamo che in questo modo Possiamo divertirci Di più noi a giocare Di più voi a giocare Nel tutto Fare una sfida Quindi diventa tutto Un po' più frizzantino Più divertente Nell'attesa Che poi magari Usciranno le patch Perché a breve Uscirà la patch Così potremo fare la serie In cui ci sfidiamo noi Esatto Quello sarebbe davvero bellissimo La prossima cosa Che probabilmente Quasi tutti voi Stavate aspettando È il raduno di Roblox Ragazzi Abbiamo deciso Che il primo raduno Lo faremo giovedì Dobbiamo decidere l'ora Anzi Sarete voi a deciderla Possiamo fare O la mattina Intorno alle 11 Secondo me Noi registriamo Quasi sempre la mattina Però magari capiamo Che per alcuni Può venire male Quindi cerchiamo di trovare Un orario che vada bene a tutti E in ogni caso Se non riuscite a partecipare A questo primo raduno Non vi preoccupate Perché ne faremo tantissimi altri Come abbiamo detto all'inizio Probabilmente ne faremo Una settimana Quindi sicuramente Riuscirete a partecipare Esattamente Comunque troverete un sondaggio Appunto per decidere l'orario E semplicemente come funziona Affiteremo un server Perché abbiamo visto Che si possono fare Dei server privati Quindi compreremo noi Un server Voi potrete entrare In quel server E in questo modo Ci troveremo soltanto noi Tra consolini E tutti gli spazi Che il gioco Permetterà di avere Li sfrutteremo tra di noi Quindi diventerà proprio Un bel e proprio raduno Senza nessun altro in mezzo Sarà fantastico Sarà tutto tutto tra di noi Quindi prenderemo noi il server E saremo solo noi E voi consolini Esattamente Il gioco invece Abbiamo già deciso Perché noi pensavamo O a qualcosa Iniziamo a dire le idee Che abbiamo avuto Ok A qualcosa come The Plaza Che comunque ha 50 slot disponibili Di server Abbiamo visto Oppure a qualche minigioco Perché secondo me I minigiochi assieme Potrebbero essere molto divertenti Stavamo pensando Quello di Marder Che si chiama Mi sa su Roblox Mystery 2 Una roba del genere Marder Mystery 2 Qualcosa del genere Non ricordo il nome preciso Non ricordo il nome preciso Però ci è capitato Qualche giorno fa Di giocarci appunto Assieme a qualche altro Consolino Che abbiamo trovato Online in quel momento Ed è stato molto divertente Esatto E anche i minigiochi Abbiamo provato assieme ai consolini Quindi secondo me È molto carino Fare anche delle piccole sfide Nei minigiochi Tutti assieme Infatti come primo raduno Siamo più propensi Appunto al Marder In Mystery 2 Quasi sicuramente Lo faremo lì Ci saranno appunto Quindi 10 spazi Perché mi sa che il server È da 12 E potrebbe essere davvero divertente Perché comunque Devi capire chi è l'assassino Ed essendo tutti tra di noi Secondo me Quello potrebbe essere Molto più figo Perché si può sfruttare Meglio la chat Secondo me si migliora Il minigioco In questo modo È fatto abbastanza bene Come minigioco A me è piaciuto E penso che potrebbe essere Davvero carino Farlo tutti assieme Se poi l'assassino Sei tu Andiamo tutti contro di te Ma non lo capirete O andremo tutti contro di Steph A prescindere Che se no c'è Se facciamo cose del genere Non vale Fuori Steph Ultima cosa di cui Vi vogliamo parlare È una cosa che probabilmente Alcuni di voi Avranno notato Da circa 10 giorni C'è una singola persona Che ci mette 10 dislike a ogni video Esattamente Lo vediamo dagli analytics Praticamente una singola persona Che a un certo orario Arriva sempre Ci mette 10 dislike Probabilmente Non gli piace La nostra faccia E quindi Ci sta facendo Diciamo un pochettino Fare una brutta figura Perché in alcuni video Comunque Diciamo che i likes Non sono troppissimi E esempio L'ultimo di sport E intorno a 100 likes Vedere così tanti dislike Non è bellissimo E quindi ragazzi Vi vogliamo scatenare Contro quest hater Dateci una mano Dimostriamo che il potere Dei consolini È più potente Di questo singolo hater Arriviamo a tantissimi likes In ogni video In modo tale Da rendere inutili Questi 10 dislike Anche perché Cioè se fossero 10 dislike Da 10 persone diverse Io li accetterei Cioè alla fine 10 persone Non piacciamo Va bene Ci può stare Miglioreremo E cercheremo E cercheremo di piacere Anche a quelli 10 persone Ma quando diventa Una singola persona A cui magari Stiamo antipatici E decide Che non basta Un solo dislike Ma ne vuole mettere Anche 10 Allora lì diventa Mi sembra Anche un po' eccessivo Un po' ingiusto Perché non dovrebbe Poterci essere Una cosa del genere Purtroppo Youtube lo permette Quindi ragazzi Andiamo Contro questa cosa Dobbiamo Proprio dimostrare Che i consolini Sono talmente forti E uniti tra di loro Che rendono In vano Il lavoro Di una singola persona Proprio il dispetto Di una singola persona Perché io non ci credo Che non possiamo Sconfiggere una cosa del genere Io so che i consolini Sono più forti Di queste cose Come su sport L'amore distruggerà l'hate Questa era terribile Lo so grazie Per questo vlog Mi sa che abbiamo detto tutto Siamo davvero felicissimi Di tutto ragazzi Vi dobbiamo ringraziare All'infinito Probabilmente I consolini Sono i migliori Io ci tengo a dirlo Perché sono felicissima Uno dei miei sogni Su Youtube Da quando abbiamo aperto Il primo canale Era proprio quello Di creare una community Un punto di ritrovo In cui ogni persona Può commentare Scriverci qualcosa Scriverci anche un suo problema Perché a volte capita E sanno che da noi Potranno sempre Avere una risposta Questo è uno dei miei sogni Te lo dicevo già Da Shelter Games Che ci tenevo tantissimo A creare una community Forte E che non è solo Entrare e guardare il video E ciao Esatto Ma proprio Un punto di ritrovo Sia per noi Che per voi Infatti siamo anche felicissimi Quando vi rispondete tra di voi Perché ci fa capire Che si sta formando un gruppo Noi davvero Apprezziamo tutte queste cose Siamo sempre felicissimi Di rispondervi tutto Ci divertiamo molte volte Di più Forse a rispondere ai commenti Che a registrare un video Da quanto ci divertiamo A chiacchierare con voi È una cosa davvero bellissima E stiamo davvero felici In ogni caso ragazzi Il prossimo FAQ arriverà presto Non vi preoccupate Oggi abbiamo deciso di parlare Di un po' di cose Ma a breve faremo un altro video Dove rispondiamo alle vostre domande Ne abbiamo tantissime carinissime E presto arriverà anche quel video Comunque ci vediamo domani ragazzi Ciao ciao